Siamo qui con Mister Dossena al termine di Provercelli e Alessandria 2-0. Mister, torniamo ai tre punti in un derby, quindi una partita importante. Come valuti la prestazione? La prestazione è stata positiva. L'unica cosa che è mancata secondo me alla squadra è che abbiamo creato troppe poche occasioni da gol. Per il gioco fatto, per il dominio che abbiamo avuto del gioco, è stato un po' troppo sterile. Gli ho detto ai ragazzi, per quello che produciamo dobbiamo arrivare più volte alla conclusione, mentre invece negli ultimi 40 metri ho visto troppe scelte sbagliate, alcune volte anche un po' di sufficienza, oppure non si è visto il compagno messo nella posizione migliore rispetto a un altro. Quindi sicuramente non una cosa macroscopica, però bisogna sempre migliorarsi e quindi oggi dobbiamo guardare questo aspetto. E invece quali punti della prestazione prendi di positivi per preparare poi le prossime partite fino alla pausa di Natale? Ma di positivo c'è che i ragazzi continuano a crescere, continuano a dare passi in avanti. Magari mi riferisco anche a chi ha giocato meno come Carosso, come Sec, che è la seconda partita. Sono entrati, sono entrati bene. Quindi è un gruppo che continua a fame di voler far bene e continua comunque un percorso importante. Ecco, adesso andiamo tra le nostre mura amiche, davanti ai nostri tifosi. Abbiamo una certa mentalità, voglio che, tra virgolette, quella certezza di comunque di far bene che abbiamo in casa, voglio che i ragazzi in settimana l'acquisiscano e quindi andiamo su un campo difficile, perché comunque la BNF è una squadra come noi, imbastita di molti giovani, ma sta facendo anche loro un ottimo percorso. Quindi dobbiamo prepararla bene, vedere come giocano, prendere le dovute precauzioni per limitare i loro danni e cercare di fargli del male, perché anche fuori casa vogliamo non invertire, ma stupire anche fuori casa. Grazie mister. Grazie.